allora la posizione del piede praticamente è questo nel senso che se noi abbiamo l'occhio destro come predominante il centro scusate non si riesco a capire il centro della nostra gamba questa deve essere praticamente corrispettivo al centro del 20 triple a del bull questo se noi abbiamo l'occhio destro come predominante se noi abbiamo l'occhio sinistro come predominante andrà la punta la vostra punta del piede sarà più o meno in questo modo sarà il centro del vostro 20 triplo chiaramente per quelli che hanno l'occhio sinistro predominante invece per quelli che hanno l'occhio destro è il centro della gamba così il centro di questa vostra la vostra gamba in questo modo è il centro che va la se invece voi avete l'occhio sinistro come me perché io ho l'occhio sinistro la tengo in questo modo penso che adesso non so se sono precisamente giusto ma comunque il girare così no girare il piede può essere più o meno così o così adesso non riesco a prendere bene la posizione comunque il centro del piede è questo ok salute